Ciao a tutti! Un bacione dalla vostra amica e dal mio bimbo Allora, questo video ci tenevo a farlo come sempre, i miei aggiornamenti mi diverto anche io a farli e voi so che me li chiedete perché giustamente vedete tanti miei haul, videoacquisti, cartopazzi di qua e di là e allora ogni tanto quando riesco, e adesso è un momento un pochino calmo che riesco ho deciso di farvi l'aggiornamento di tutti i miei sticker che non è da tantissimo che l'ho fatto però se ne aggiungono sempre, allora è un modo in più per farvi vedere dove sono arrivata con la mia collezione e allora vabbè, sono tutti qua in questa scatola e in quest'altra scatola qua ci sono tre libri di sticker allora adesso facciamo un attimo così, sposto le due scatole, prima vi faccio vedere questi tre libriccini che vi avevo già mostrato in un video acquistivo molto velocemente vabbè uno è questo, 100% sticker speciale diario che ce l'ha anche mia figlia vabbè comunque è conosciutissimo e praticamente sono 1500, più di 1500 sticker c'è scritto di un po' tutti i tipi, love, non love, scuola, qualche animale, cuori, fiori, tutto è una cosa comunque penso che lo conoscete benissimo, c'è un po' di tutto ecco, i prezzi non me li ricordo, comunque li ho presi tutti su Amazon e poi sempre su Amazon io avevo preso questo, 600 sticker di Charmy Kitty che è la gattina questa qua di Hello Kitty se non sbaglio ebbè questo è praticamente da attaccare anche le figurine, sono qualche pagina all'inizio così e poi vedete poi iniziano, forse aspettate che ci veste qua, che sono tutte pagine inutili queste vedete che hanno un numero, sarebbero da attaccare perché diventerebbe un album a me non me ne frega niente, io userò solo i fogli questi dove praticamente fa parte tutti gli sticker, sono tutti tutti sticker di questa micetta molto caruccia e poi l'altro, che anche questa è una favola, sticker fantastic, sia da poppante ma non mi interessa ditemi quello che voi ti voglia, ma mi piacciono e questi sono praticamente pagina sticker, poi questo cartonato che io plastificherò che si può fare anche come cartoline, poi sticker cartonato con dei disegni davvero pucciosi e carini poi sempre sticker, va avanti tutto così, ve l'avevo già mostrato un pochino vediamo se riesco a farvi vedere dell'altro, comunque sempre così, sticker, cartoline, sticker, cartoline ecco questo sono mille sticker, e questi sono i tre libri, appoggiamola adesso andiamo con la prima scatola, questa che conoscete che è da tempo ormai che li ho dentro qua però ho dovuto prenderne un'altra perché insomma, è quella che avevo preso da Tiger, così e qua ho questi che li ho presi poco tempo fa da Lidl, ho già tagliato qualche pezzo sono quei fogli di sticker che poi hanno dentro anche questi piccolini, non sto qua a togliere poi vi dico, tantissimi sticker sono di Tiger, di quando all'epoca li aveva, che adesso non li ha più questi, questo, tutti i Tiger, poi invece ho anche drova di cinesi, come questi qua un pochino rialzati di plastica, così cuoricini, brillantini, così, così, perle, brillanti, brillanti, questi qua vengono sempre buoni per qualcosa fiocchi, sempre presi dai cinesi, questi li ho usati per i portapenne, li ho attaccati sui portapenne molto belli anche questi, poi avete questi Lidl di Halloween, che ho usato un gufetto e basta perché Halloween non è che puoi attaccare, fare una settimana dell'agenda e basta questi ancora cinesi, 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 sempre tutti quei brillanti, cinesi poi Tiger, Tiger, sempre i gelati, Tiger, cuori Tiger, che questi li ho usati, poi li avevo presi doppio ma per fortuna li avevo comprati perché vi ripeto adesso non hanno più niente da Tiger questi che non ho ancora trovato l'uso da usarli, gli ho detto che gli animali li adoro però ho messo qua così, era un po' macabro, vedremo, le matriosche, robottini, mostriciattoli, insetti, sempre tutti Tiger invece questi sono due della Lidl con i robottini, scusate il contrario, molto bene, così musica, i festoni e la frutta, questi che ho vinto nel giveaway di Palla Style, le ciambelline la balena di Tiger, questo fantasmoso dell'ultimo, di quest'anno, di Halloween del 2016 Lidl, questi ce ne avevo un po' doppi, sì, questi tutti Lidl che avevano fatto, sì, un periodo di cartopasso, poi c'erano tutti questi sticker che non costavano tantissimo, questi invece ce ne erano entro parecchi vabbè, alcuni anche doppi poi ancora Lidl con le lettere dorate Lidl con le lettere colorate, numeri colorati, sempre Lidl poi vabbè, cinesi, cinesi vado un po' veloce perché se no, tanto comunque si vedono questo è ancora un Tiger di Natale quando allora c'erano ancora sticker non ci sono più poi anche questi sono Lidl ve li conoscete benissimo, sono tutti nella versione dorata a fiori ci sono le farfalle, qualcosa ho usato cuori fatti così e anche nell'argento ci sono degli angioletti qua delle fate non so io, stelline, grecche, ricami anche questi Lidl Tiger poi questi qua fantastici di Tiger meno male che ho fatto la scorta vedete, ogni tanto serve le scorte della Liga perché dopo quando non ci sono più che non li mettono più farfalle anche queste fantastiche fiori questi, quanti ne ho usati ne avevo presi talmente tanti questi fiori queste altre farfalle che sono riuscite a beccarne solo una che sono stupende vedete, ho fatto anche il doppio di questi fiori e delle farfalle le altre qua ma per fortuna Filippetto li avevo presi perché non ci sono più anche questi, questi, questi doppio pazza, doppio questo vabbè doppio ma non sono uguali e poi questo, cinesi cinesi questi sono un po' alti, spessorati, cinesi e questo è l'ultimo ancora di Tiger con queste fantasie qua così con le sguardo e le finestre disegnate lì con le persone insomma questi sono la prima scatola che adesso butto dentro così poi sistemo dopo perché sennò ci impieghiamo un'ora e mezza solo a sistemare appoggiamo qua e adesso andiamo con l'altra scatola che ho acquistato perché appunto non mi ci sa più niente di allora è questa qua fatta libro che avete visto in un video acquisti presa dai cinesi e c'è questo, allora Winnie Winnie che mi ha regalato la Dani ciao Dani! eh scusate poi questo, zum zum mi sono arrivati da Aliexpress poi anche questi che non sto qua a aprirveli comunque sono di questi qua fatti così questo vabbè non faccio bene anche di aprirvelo ci sono dietro, sono sei fogli ogni foglio c'è questa questi disegnini sempre Aliexpress questi invece cinesi cinesi le cochesci cinesi fiocchi poi qui ancora parecchia roba di Tiger che è tutta aperta perché li uso comunque sono i cuoricini questi classici che almeno questi sono rimasti da Tiger poi c'erano questi qua un po' cartonati marroncini qua color beige poi altri di cinesi che sono questi smile che ne ho parecchi perché in ogni pacchetto c'erano dieci fogli cuori anche questi dieci fogli ogni pacchetto e idem le stelle poi questo è ancora di cinesi che dietro ci sono i sei fogli senza sapere aprire il pacchetto per farvi vedere perché se no basta una giornata questi che mi ha messo Paola Stai nel giveaway questi che sono della Webster Page così poi qua ci sono ne ho dentro perché mi si era rotto il pacchettino li avevo messi in agenda poi li ho tolti quelli dell'agenda comunque vabbè ho dentro ancora qualcosa di Accessorize qualche cuoricino di Tiger poi c'ho dentro qualcosa di Unicorni non è che ho dentro tantissimi stick perché comunque ce li ho portati a mano questi sono Alpaca e altri animaletti sempre presi dagli Express questi sono appunto quelli di Accessorize Tiger questi con i baffi gli occhietti questi altri cuori sempre presi da Tiger poi una pazza sono ancora tre nuovi di questi vabbè poi questi qua presi dai cinesi che ci sono dieci fogli dentro e poi ho ancora allora cuoricini letterine altre stelle questi qua li avevo presi alla Lidl e costavano 59 centesimi poi Gufi Accessorize Aliexpress questi da Tiger Tiger questi qua fantastiche da Tiger poi cinesi ho preso questi che questi li ho usati per sì per fare una settimana dell'agenda poi Gufi che ho fatto il doppio perché io adoro i Gufi non so che dopo non faccio il doppio dopo spariscono le cose e questi qua così sempre cinesi Tiger tuoi di Pasqua poi questi qua Aliexpress poi ancora Accessorize prenderete via per matta però fa niente e poi fiocchi di Tiger questi che li avevo presi da Tigota strano ma vero avevano gli sticker non so come mai poi questi qua li ho presi sempre dai cinesi modi rocchettari cagnolini gappini cagnolini poi Tiger Tiger sono uguali e Tiger questi e credo proprio di avervi fatto vedere tutto sto sudando si muore di caldo ci sono 40 gradi spero di avervi tenuto compagnia al prossimo bacioni dalla vostra amica 제� ecco 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 ecco